Il viaggio del caffè è un viaggio lunghissimo, passa attraverso tantissime mani e per garantire la qualità del prodotto dobbiamo fare in modo di conservarlo e mantenerlo nel migliore del suo stato. Siete ora nel core business della Sandali di Trieste, azienda storica che da più di 70 anni importa e commercializza caffè crudo. Il caffè crudo è una materia prima e come tale va trattata. Anche dall'origine riceviamo cose molto diverse di anno in anno e di stagione in stagione. È un prodotto che va deteriorandosi nel tempo e che raggiunge il suo massimo a livello organolettico intorno ai 4, 5, 6 mesi di vita da quando è stato raccolto. Riceviamo mediamente quasi 2.200 campioni all'anno e tutti vengono tostati, assaggiati e catalogati. Tutto passa attraverso il laboratorio e quindi sotto le nostre mani, i nostri nasi, i nostri occhi e chiaramente per il palato. La prima cosa importante per il caffè è trasformarlo da caffè crudo verde a caffè tostato. Una volta tostato lo lasciamo riposare dalle 24 a 36 ore per degasare, perdere la energia carbonica e essere quasi perfetto per l'estrazione per l'espresso. Attraverso le estrazioni per l'espresso esaltiamo quella che è la vera natura della materia prima che andiamo ad acquistare. L'espresso è proprio questo, esprimere al massimo quello che è il potenziale del prodotto. Possiamo farlo attraverso una tecnologia sicuramente all'avanguardia e di altissimo livello. Abbiamo la fortuna di collaborare con Electra da tanti anni, che ci permette di garantire degli standard qualitativi sempre validi per tutte le tipologie di caffè che andiamo ad assaggiare. Con la Indy lavoriamo su dei parametri sempre fissi, con la Verve lavoriamo su sperimentazioni di temperature e preinfusioni sempre nuovi. Una volta che il caffè è stato approvato e perfezionato, il caffè da Trieste parte e gira tutto il mondo, veramente. Grazie a tutti.